Il contenuto dell'articolo Perdita di peso durante la menopausa dopo 40 anni Come perdere peso velocemente con la menopausa Dieta rimedi popolari con presse video Su come perdere peso senza droghe Recensioni sulla nutrizione con la menopausa Ogni donna vuole rimanere sempre giovane e condurre uno stile di vita attivo Con l'età, si verificano cambiamenti irreversibili nel corpo, la salute peggiora, compaiono sintomi spiacevoli o persino un eccesso Di peso, questo è l'effetto della menopausa Per apparire attrenti, le donne provano diversi modi per perdere peso con la menopausa Diete, esercizi, medicine, che ti aiuteranno a sbarazzarti del grasso diato Perdita di peso durante la menopausa Molte donne non sanno come perdere peso con la menopausa, quindi credono che le voci non possano più essere fatte Non importa che età Il corpo femminile, il sovrappeso appare a causa di malnutrizione, bassa attività fisica Anche se con la menopausa, il metabolismo rallenta davvero, ma il grasso non può apparire proprio così In tali casi, si consiglia alle donne di tenere un diario in cui mangiano ciò che mangiano al giorno Dopo 40 anni la maggior parte delle donne può ingrassare anche prima della menopausa Dopo da 35 a 40 anni, il corpo inizia a prepararsi per la menopausa Quindi compaiono alcuni sintomi, che indicano l'inizio imminente della menopausa L'ora X può arrivare a 50 o anche a 60 anni Tutto dipende dalle caratteristiche individuali del corpo Lo sfondo ormonale delle donne diminuisce Di conseguenza, le diete che aiutano a perdere peso non funzionano più Come perdere peso velocemente con la menopausa? Il rallentamento dei processi metabolici si verifica a causa della mancanza di ormone estrogeno nel corpo di una donna Come normalizzare il metabolismo e perdere peso? È necessario compensare la mancanza di questo ormone Quindi la dieta per la menopausa nelle donne dovrebbe contenere prodotti con fitoestrogeni Questi sono legumi Oltre a una corretta alimentazione, è necessario seguire altre sfumature Per saperne di più come scegliere un tapis roulant per la tua casa Valutazione del simulatore condizione emotiva Climax non è una frase per una donna La vita non finisce qui Aiutati a sopravvivere a questo periodo Quindi non ci sono restrizioni rigorose Non pensare nemmeno a come perdere peso con riso o grano saraceno Diete mono escluse Ridurre fortemente e bruscamente il peso è impossibile Una dieta rigorosa dopo 50 anni non porterà risultati Attività fisica Non rimanere troppo a lungo Fai esercizi al mattino, riscaldati durante il giorno Dieta la separazione dei prodotti è la migliore dieta per la menopausa nelle donne La dieta dovrebbe includere il 60% di frutta e verdura, il 25% di proteine e il 15% di carboidrati lenti Come perdere peso in modo efficace con la menopausa Pensando al menù, lascia meno cibi ipercalorici per cena e quelli più abbondanti per colazione Se hai bisogno di stabilizzare il peso, puoi permetterti l'uvetta o la marmellata, ma raramente Sulla base dei seguenti piatti, è possibile combinare il menù per il giorno, per la settimana La dieta per gli over 50 può includere Colazioni semplici Corn flakes inzuppati nel latte o yogurt magro 1-2 toast con una fetta di formaggio magro 1 mela o un'arancia Insalata condita con olio di semi di girasole Fagioli bolliti Frullato con banana Toast con marmellata Durante la dieta a pranzo, puoi scegliere i seguenti piatti Pesce al forno Insalata con spinaci e formaggio Un panino Tacchino Bollito pollo con contorno a forma di spezzatino di verdure o spaghetti Toast con pomodoro, pesce in umido con riso integrale e, broccoli guarniti, zuppa di verdure, purè di patate con pollo o manzo La cena dovrebbe essere il pasto più semplice con una dieta, ad esempio, pollo bollito, mela, ricotta a basso contenuto di grassi, confette di frutta, crusca, kefir, insalata di verdure Per saperne di più chirurgia plastica del seno, indicazioni mediche per chirurgia, tipi di correzione e controindicazioni rimedi Popolari Ecco alcuni modi per le donne di perdere peso senza droghe Succhi di frutta, verdura e bacche appena spremuti Sul tavolo ci sono sedano, prugne, cetrioli, carote, cavoli I loro succhi contengono una grande quantità di fibra, che pulisce l'intestino dalle tossine, aiuta a perdere peso Tintura a base di foglie di ciliegio e tiglio Versare 250 millilitri di acqua bollente in una miscela di una parte di iperico Foglie di ciliegio, farina di cardo mariano con due parti di fiori di tiglio Mezz'ora dopo aver mangiato, bevi la terza parte di un bicchiere di questa tintura Tè allo zenzero La pianta schiacciata viene prodotta con un normale tè Compresse eventuali farmaci per la perdita di peso Specialmente durante la menopausa nelle donne Non possono essere utilizzati senza La raccomandazione del medico Se non si hanno segni di menopausa Non utilizzare farmaci destinati alla terapia ormonale sostitutiva Ad esempio Flimoston, Angelic, Climonorm, Divina, Verodanazole Dopo aver consultato il medico, puoi assumere medicinali omeopatici Cuiclim Integratore alimentare Il farmaco era comandato per le donne dopo 40 anni con la menopausa La controindicazione è il periodo di gravidanza, allattamento e intolleranza individuale ai componenti Le allergie sono possibili tra gli effetti collaterali E Provel Supplemento per la correzione della menopausa Il farmaco è controindicato nella fenilchetonuria e nell'intolleranza individuale Allergia possibile Feminal La preparazione a base di erbe ammorbidisce il corso della menopausa Non può essere assunto per bambini di età inferiore a 16 anni Donne in gravidanza e in allattamento Le allergie possono comparire durante il trattamento Video su come perdere peso senza droghe Per saperne di più preghiere dimagranti ortodosse, testi dei più efficaci da eccesso di cibo e golosità Per perdere peso è un processo difficile per un corpo giovane Cosa possiamo dire del corpo femminile durante la menopausa? L'intenso stato psicologico non ti consente di concentrarti, il che è molto importante quando segui una dieta Le donne che assumono farmaci per la perdita di peso a volte peggiorano solo la situazione Per sapere come utilizzare correttamente le ricette popolari per la perdita di peso durante la menopausa Guarda un video utile in Una storia dettagliata sulla tecnologia di perdita di peso a casa Le informazioni presentate nell'articolo sono solo indicative I materiali dell'articolo non richiedono un trattamento indipendente Solo un medico qualificato può fare una diagnosi e fornire raccomandazioni terapeutiche basate sulle caratteristiche individuali di un particolare paziente